E' aperto il mio nuovo shop Potete comprare magliette, felpe e maglie e maniche lunghe Vi lascio il link in descrizione per acquistarlo Me lo potrete a dire sempre io E oggi siamo tornati sulla Unexpected Challenge Questa volta non come il precedente episodio di questa challenge Ma con una compilation WTF Proprio sorpresa E niente Perché ho deciso di fare la reaction a questa compilation E non andare sulla classica Unexpected Challenge Perché siccome il mio internet fa un po' schifo oggi Le clip andavano con la qualità di cacca Quindi addio challenge E quindi accontentiamoci di questo Iniziamo C'è un tipo qui con l'auto in mezzo ai binari Con il treno che sta arrivando No, no Ma va Dove so come ha fatto Ok, c'è un gatto E' russa la tipa, sicuro? No, non sei un amore, da un becino, dai Madonna mia That bike Gatto killer Ok Tutto tranquillo Bravo bambino E adesso Povera Povera Addio matrimonio Secondo me finisce male Cos, cosa, cosa, cosa Non ho capito Lo voglio rivedere Voglio, voglio vedere Perché la picchia Ok, si avvicina Non ho capito La picchia A caso No Ma sono imbecilli C'è, sono imbecilli Dai Ok Qui succede qualcosa di bello Secondo me Mamma mia C'è Ma che cavolo Che cavolo ci fa Un pappagallo Sopra una telecamera Ma che cavolo Chiamate qualcuno Ok Un bambino Con il padre Credo Ma che cavolo Io l'avrei sboccato In faccia Ok No Non è quella Scompare nel buio Scommettiamo Lo sapevo È scontato Una meme Vecchissima È un parcheggio Credo Ok Non ci sto capendo Nulla È È È Ok Come è fatto a volare È finito male Ok Ancora gatti Mi stanno chiamando Al maledetto telefono Non posso rispondere Maledizione Comunque Torniamo al gatto Il gatto è bastardissimo Secondo me O finisce male il gatto O finisce male il bambino E finisce male il gatto Dentro la vasca Ciao ciao Wow Sicuramente è meglio di me palleggiare Questa tipa E invece no È peggio di me Addio telecamera Ma è che Ma è che Attenzione Attenzione No Si è buttato Bruttissimo Cioè ma dai Ha fatto di tutto per sfuggire Proprio si è lanciato Oh Scivoli d'acqua E E Addio fotocamera Non credo riuscire a passare Quel cane Il gatto tipo lo guarda Cosa Povero Povero intelligente il cane A passare Nella porta per gatti Bene E adesso È inutile Ci provo in tutti i modi Il gatto è pronto lì A picchiarlo Eccolo Ebbè Solo merita No Che cavo Come è entrato Di dentro Mamma mia Si è sentito Proprio la botta Una super Scorreggia Meno male che l'ho presa a ridere La tipa sta morendo Che cavolo Bene Immaginavo fosse una cosa simile Ok Magica Come è a fata crolara Io mi aspettavo Qualsiasi altra cosa Ma non questo Oh mio dio Probabilmente Era già una strada A rischio Ok Fammi dire che è un transformer Vedo dei piedi C'è un tipo lì dentro C'è un tipo lì dentro Ale Cosplay di transformer Fatto benissimo Ok c'è un'auto No non è quello che penso io C'è un tipo lì dentro Che che C'è qualcuno lì dentro Ma come l'ho fatta a mettere un cavallo dentro un'auto del genere Ma che che Va bene Tanto Mamma mia Super in expected Bellissima reazione Avrei fatto la stessissima cosa io Sero un regalo di merda Che che vuole Gli ha regalato Un pacco di caramelle Bene come pulire Gli zoccoli un cavallo Ok si E li ha scorreggiati in faccia Bene Io sarei morto Manomale con la presa a ridere Ho ancora gatti Si Ma no Il gatto è tipo WTF Secondo me finisce male Che poi perché si è messo sopra lo specchietto della macchina Hai dentro Mi fanno pisciare ste cose Bene Ehm Dai Spero che ne siete accorti del tipo che cade Dalla ruspa C'è tutto tranquillo Boom Cade Ah non cade la ruspa E' a fianco alla ruspa e cade Va bene Piccoli dettagli Eccolo Proprio lì dovevi passare Oh E' un cane Credo Guardate cosa è unexpected Ok la bambina piange Non mi sembra tanto unexpected questo Bene Mi aspettavo qualcosa in più Dovrei dire Essendo un expected challenge Mi aspetterei di più Però dai Ok Io direi di chiudere qua Questo video Spero vi sia piaciuto Se si lascia il like Iscrivetevi al canale Seguitemi su Instagram E anche su altri social Link in descrizione E niente Noi ci vediamo in un prossimo video Bella a tutti rag Ciao 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 Ciao